Grande festa nel Roma Arzollese per Giannina D'Alseno, nella villetta di Via Negrelli in cui vive, che mercoledì ha compiuto la veneranda età di 100 anni. Tra una visita e l'altra, nel primo pomeriggio, anche quella dell'assessora Silvia Girelli, che le ha portato in dono un mazzo di fiori, un biglietto d'auguri firmato dal sindaco Alessandro Betta, che ha letto senza occhiali, assieme all'abbraccio ideale di tutta la città. Contentissima della visita, consapevole dell'importanza del momento, dicendo che non è da tutti raggiungere tale traguardo raggiunto, aggiungendo che solo Dio può decidere una cosa simile. Nata il 12 aprile 1917 a Ostiglia, in provincia di Mantova, ha vissuto con i nonni Emma e Achille. All'età di 14 anni il trasferimento a Milano, dove più tardi ha studiato per diventare ostetrica. Lavoro che in seguito ha svolto per oltre 15 anni alla clinica Mangia Galli. Nel capoluogo Lombardo, nel 1957, Giannina ha sposato Lino Cattoi, coetaneo originario di Vignole, che a Milano svolgeva uno di quelli che oggi chiamiamo i mestieri di una volta, ovvero il cubatore di bore. Si occupava cioè di misurare il volume del legno dei tronchi per le segherie, un lavoro all'epoca importante e di responsabilità. Dopo la pensione, nel 1998, il trasferimento ad Arco, dove vive, rimasta vedova nel 2012, accudita dall'amica Ernesta e da qualche mese anche dalla signora Valentina.